Si torna a vincere, è vero, ma la partita con la campionata non abbiamo ancora persa, è ancora tutta da giocare, quindi a parte gli scherzi penso che oggi la squadra sia andata in campo proprio concentrata, determinata, abbiamo visto in campo magari qualcuno che in questa parte del campionato ha giocato meno, mi ha fatto capire di esserci, quindi di poter contare su tutto questo gruppo, ma io non avevo assolutamente dubbi, quindi questo fa solamente crescere ancora più autostima in tutti quanti, è vero quello che hai detto tu, vincere aiuta a vincere, dobbiamo adesso mettere già subito da parte questa partita, prendere le buone cose che abbiamo fatto e pensare in questi altri tre giorni a lavorare per la trasferta di Chieti. Bene Morelli, bene Bolo, benissimo presti anni, ecco il mister è ancora più in difficoltà, ma è questo sempre meglio no? No, questi erano ragazzi che venivano da infortuni, a me dispiaceva non averli avuti a disposizione, adesso stanno recuperando e sicuramente magari non avranno la condizione migliore, anche se Morelli a livello atletico è un animale, quindi non fa fatica, però sono sicuramente recuperi importanti perché mi permettono appunto di fare delle scelte più ampie. Abbiamo fatto male nell'atteggiamento, nell'essere rimasti sorpresi da una partita vera, perché anche se la Coppa Italia era una partita vera, abbiamo perso quasi tutti i duelli il primo tempo, abbiamo perso tantissime cose nell'attenzione, magari qualcosa nella qualità del gioco potremmo perdere, perché quando abbiamo giocato credo 9 undicesimi nuovi ci può stare, però ci alleniamo tutti insieme, ci alleniamo tutti insieme alla stessa maniera, non chi gioca e chi non gioca, tutti uguali, quindi la partita non mi è piaciuta per niente. Grazie.